queste sono le ortofoto dell'agenzia delle entrate praticamente questa è la variante vedete questo è strada 44 questa è una piccola immagine senza ortofoto allora a cominciare qui da strada 44 si ricongiunge con il ponte questo tratto questo qui questo è disegnato qui è disegnata una variante ma se si prende la visura tutte queste particelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ce ne sono in infinità questa è la variante vedete tac 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 e arriva fino a volete vedere dove arriva ecco qui dove arriva si prosegue 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 e praticamente arriva all'incrocio di strada questa è strada 43 quindi questa è la variante che prosegue però qui non ci sono problemi perché qui è stata fatta la descrizione è in nero vedete anche questa qui quindi si gira qui questo è via pietromicca questo via alessandro torlonio questo è via luca degli abruzzi il problema è che questa strada è disegnata esiste sul posto ma non è stata trascritta tutte queste particelle a cominciare da qui che si vedono vedete è intestata attualmente a tutte le persone qualcuno aveva ma la maggior parte diciamo sono decedute non è stata fatta la descrizione e quindi tutte queste particelle hanno un reddito risultano particelle con reddito agricolo ma c'è la variante con reddito risultano particelle con reddito risultano particelle con reddito risultato